Ciao a tutti e benvenuti a questo seminario in forma video sull'antroposofia e in particolare parleremo dell'azione degli ostacolatori nell'evoluzione umana e di come questi abbiano da un lato dato un ostacolo all'uomo e dall'altro la possibilità di un superamento dell'ostacolo stesso e quindi dell'acquisizione di qualche cosa che è un superamento stesso, sono forze che vengono date all'essere umano in più. Noi dobbiamo tenere in considerazione che tutta l'evoluzione, tutta l'evoluzione cosmica e umana e terrestre si divide in due parti, una parte che va dallo spirito verso la materia per poi risalire nuovamente allo spirito. Questi due movimenti sono due movimenti polari, sono la prima polarità nell'evoluzione. Da un lato abbiamo un'involuzione dello spirito nella materia e dall'altro abbiamo invece l'evoluzione dalla materia verso lo spirito. In questo gesto che scende e poi riascende si gioca tutto quello che ha l'influsso degli ostacolatori nell'evoluzione umana e dall'altro lato quello delle gerarchie spirituali nell'evoluzione umana. Stiamo trattando in generale dell'evoluzione terrestre, quindi di quella che viene chiamata la quarta metamorfosi della Terra, la metamorfosi in cui la Terra si risveglia in uno stato di coscienza di veglia. Le metamorfosi della Terra sono sette e in queste metamorfosi c'è un passaggio da quella che ha una profonda incoscienza, la trans dell'antico Saturno, a un risveglio progressivo. Si passa quindi al sogno dell'antico Sole, al sogno dell'antica Luna e al quarto stadio in cui ci si risveglia nello stato di veglia. Vi saranno poi altre tre metamorfosi future, il futuro Giove con un sogno cosciente, la futura Venere con un sonno cosciente e il futuro vulcano con una trans cosciente, per quanto paradossali possono essere queste definizioni. Quello che accade nell'ambito dell'evoluzione umana è che l'uomo stesso nelle passate metamorfosi della Terra ha passato delle esistenze diverse da quella umana. Nell'antico Saturno, dove appunto ha uno stato di coscienza di trans, vive come gli attuali minerali, quindi possiamo dire che è in uno stato di coscienza minerale, è un uomo minerale. È tutt'uno con la Terra e rimarrà tutt'uno anche nelle successive metamorfosi, nell'antico Sole e nell'antica Luna, fino alla presente Terra, dove si ha questa percezione di separazione tra Terra e uomo e vedremo anche perché. Nell'antico Sole l'uomo acquisisce un gradino di coscienza in più, quindi il sonno, che caratterizza il regno vegetale attuale, quindi è un uomo vegetale. Nell'antica Luna avanza progressivamente nella sua evoluzione e acquisisce un gradino di coscienza in più, giunge al sogno, il sogno che caratterizza il regno animale attuale. Nel corso dell'evoluzione peraltro rimangono indietro i stessi regni della natura da questo gesto evolutivo dell'uomo, quindi nell'antico Saturno rimangono indietro alcuni di questi uomini minerali che diventeranno poi gli animali, nell'antico Sole rimangono indietro alcuni di questi uomini vegetali che diventeranno gli stessi vegetali, nell'antica Luna rimangono indietro alcuni di questi uomini animali che diverranno poi il regno minerale stesso. Entrando nel merito della quarta metamorfosi del terrestre, nell'evoluzione terrestre, abbiamo anche qui una ricapitolazione di quelli che sono gli stati precedenti dell'evoluzione dell'umanità. Abbiamo quindi dunque una prima era, una seconda, una terza per poi giungere ad una quarta. La prima era è una ricapitolazione dell'antico Saturno, la seconda dell'antico Sole e la terza dell'antica Luna. La quarta è quella propriamente terrestre. Quello che accade è che man mano che si giunge verso quella che è la quarta era terrestre, la condizione diventa propria di quella che è la quarta metamorfosi terrestre. Quindi di conseguenza nella prima era terrestre chiamata colare abbiamo uno stato di trans minerale, un uomo minerale. In quella iperborea, nella seconda abbiamo un uomo vegetale, quindi una ricapitolazione dell'antico Sole. E in quella lemurica, la terza, abbiamo un uomo animale, quindi trans, sogno, scusate, trans, sonno e sogno. e poi infine il stato di veglia, in quella che viene chiamata dell'Atlantidea. Questo è il gesto discendente dell'evoluzione dell'umanità, dallo spirito che è unitario alla materia che invece rende molteplici le cose. In questo gesto noi possiamo vedere che l'uomo dà un'unione tra l'uomo e la terra, quindi che rimane nell'epoca polare iperborea, comincia a dividersi a metà circa dell'epoca lemurica. Quindi una percezione della distinzione tra l'uomo e la terra. Se nell'era polare l'uomo fondamentalmente costituisce la massa stessa della terra, con queste uova di calore eterico, l'era e perborea comincia la prima differenziazione dell'uomo. L'uomo acquisisce un'esistenza vegetale, quindi una polarità tra superiore e inferiore, tra quella che ha una tendenza verso le profondità e quella che ha una tendenza invece verso le altezze. Questa polarità è la prima divisione ma che è ancora in se stessa profondamente un'unità, quindi è una verticalizzazione di quella che è fondamentalmente un uomo sferico, ovale. Quindi qui si ha la prima percezione di una polarità terrestre, che quindi è caratterizzata da quello che sarà l'eterico, il fisico, e una polarità celeste, solare, quindi della luce, che è invece fondamentalmente legata a quello che sarà l'astrale, vediamo. Queste due tendenze conducono poi, in fondo, all'evoluzione iperborea, a quella che è un'evoluzione più animale dell'uomo, quindi fondamentalmente a quello che è un uomo con una disposizione che è dipendente dalle forze lunari, quindi profondamente legata a quelle che sono le dinamiche di cambiamento della luna. E' solo nella quarta era terrestre che l'uomo effettivamente raggiunge la coscienza di veglia e assume fondamentalmente la forma umana moderna, in particolare alla fine dell'era Atlantidea, come noi la conosciamo. Quindi quello che avviene fondamentalmente è che nell'era polare si ha uno sviluppo del fisico, nell'era interborea dell'eterico, e nell'era lemurica dell'astrale. I tre corpi dell'uomo, corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale, vengono qui poste le basi per quella che sarà tutta l'evoluzione successiva della metamorfosi terrestre. In questa evoluzione, mentre nell'era polare iperborea, l'uomo è tutt'uno con il fluire della vita divina, è a metà dell'era lemurica che questa invece si separa dalla vita divina. E questo avviene per un ingresso di una nuova forza nell'evoluzione che è determinato da Lucifero, o meglio dagli esseri luciferici, in quanto Lucifero è un essere costituito da una moltitudine di esseri chiamati esseri luciferici. Questi esseri sono gerarchie, sono gerarchie che rimangono indietro in una precedente metamorfosi della Terra, in particolare nella terza metamorfosi, che è appunto l'antica luna, lo stato di sogno della Terra e dell'uomo, quando l'uomo era, e tutta la Terra era completamente in uno stato animale. Questa metamorfosi dell'antica luna che precede la presente, che noi abbiamo rappresentato qui sulla lavagna, nel suo complesso, metamorfosi della Terra, è il momento in cui Lucifero e le sue schiere trattengono qualche cosa dall'evoluzione cosmica per loro stessi. E questo, ciò che trattengono, è l'impulso che lo Spirito Santo ha inserito nell'evoluzione dell'antica luna. Questo impulso è la saggezza. Quindi Lucifero e le sue schiere trattengono per loro la saggezza che costituisce, compenetra, il cosmo dell'antica luna. Nella scienza occulta, Steiner definisce l'antica luna nel suo complesso un cosmo di saggezza. Questa saggezza rimane quindi indietro nell'evoluzione, in un certo senso, perché viene portata così com'è dall'evoluzione lunare nell'evoluzione terrestre. Per questo motivo, il primo momento in cui Lucifero può entrare e la porta attraverso cui può entrare l'evoluzione umana è attraverso il corpo astrale, l'astralità. E nella terza era terrestre, quindi la cosiddetta era lemurica. A metà. A circa metà. Dal punto di vista cosmico, questo momento fondamentalmente coincide con una progressiva separazione dei corpi celesti dalla Terra, dalla massa della Terra. Se nell'Era Polare si sono differenziati, sono stati espulsi quelli che sono i pianeti più lontani, quindi Saturno e Giove, è solo nell'epoca iperborea in cui viene espulso il Sole e, da un lato, Venere e Mercurio. Questo avviene in quanto diverse entità, diverse gerarchie hanno necessità diverse dell'evoluzione, quindi hanno bisogno di sfere di evoluzione diverse. Della sfera solare, quindi, che sono esseri più evoluti rispetto alla sfera terrestre, è l'ambiente ideale per l'evoluzione di questi esseri chiamati Elo, la gerarchia del Sole. E così degli arcai, degli spiriti del tempo, su Venere e degli arcangeli su Mercurio. A questo punto, nella prima metà dell'Era Lemurica e per tutta l'Era Polare e Perborea, la Luna e la Terra sono tutt'uno. Ed è solo in questo momento che la Luna stessa viene espulsa dalla Terra. Quindi, a questo punto, abbiamo una Terra che è veramente eterna e ha espulso da sé la Luna, non è più una massa unica. Ed è per questo, ancora una volta, che viene ribadito il modo in cui Lucifero può entrare nell'evoluzione terrestre, cioè attraverso tutto quello che è l'aspetto lunare, che è la ricapitolazione della metamorfosi dell'antica Luna. Lucifero, di conseguenza, entra nella strada, entra nell'anima dell'uomo. Nella Genesi, nel racconto della Genesi, si narra di questo evento evolutivo attraverso Adamo ed Eva. Quello che accade è che Eva viene tentata dal serpente che alberga sull'albero della conoscenza del bene del male a mangiare di quel frutto di cui gli era stato proibito. Adamo ed Eva potevano mangiare del frutto dell'albero della vita, che era sotto legida di uno degli Eloi, Geova, l'Eloa flunare. Ma non potevano mangiare dell'albero della conoscenza del bene del male, perché era troppo presto, perché questo li avrebbe separati dalla divinità. Ma questo lo scoprono solamente dopo averne mangiato, seguendo quello che è il consiglio di Lucifero di divenire come dei, mangiando di questo frutto. E allora gli vennero aperti gli occhi. Lucifero, il portatore della luce, è colui che apre gli occhi all'uomo e gli permette di percepire se stesso in opposizione al mondo, un'opposizione tra soggetto e l'oggetto. In quel momento, nell'astralità dell'uomo, si genera un dualismo. Questo dualismo è possibile in quanto da un altro, se noi vediamo l'evoluzione da un altro punto di vista, gli Elohim hanno donato all'io, l'io all'uomo. Quindi una parte di loro stessi attraverso un sacrificio genera l'io dell'uomo che inizialmente è ancora unito a questa vita divina degli Elohim che quindi sostanzialmente si collegano tutt'uno all'uomo e fluisce la loro vita divina nella vita dell'uomo e che quindi compartecipa di questa divinità. È il cosiddetto frutto dell'albero della vita. Quindi qui abbiamo la vita divina, il frutto dell'albero della vita, che è tutt'uno con Dio e dall'altro noi abbiamo invece la conoscenza del bene del male. il frutto della conoscenza del bene del male. Che agisce sull'astrale. L'astrale dell'uomo che dapprima è fondamentalmente una forma aperta verso il cosmo che quindi riceve il frutto della vita da parte degli Elohim adesso attraverso l'intervento di Lucifero e questa sua azione sull'astralità diventa qualcosa di conchiuso in se stesso. Qualcosa che lo separa dalla vita divina? Conseguenza, l'uomo, Adam e Deva dopo aver mangiato del frutto della conoscenza del bene del male non possono più compartecipare del frutto della vita. Questo è il modo in cui dal punto di vista scientifico-spirituale e antroposofico vediamo la narrazione della Genesi. Quindi in conseguenza cosa accade? Che l'astrale conchiudendosi in se stesso isola l'io dalla vita divina degli Elohim e non gli permette di compartecipare di questa grazia divina di questa grazia solare degli Elohim. Lucifero quindi opera inserendo un elemento nell'evoluzione umana che è l'egoismo e l'egoismo è profondamente legato alla percezione di un io di un io conchiuso in se stesso diverso da un tu. Quindi Adam e Deva stessi si riconoscono tra di loro come diversi come maschio e femmina e quindi di conseguenza si separano diventano duali loro stessi diventano soggetto e un oggetto diventano due soggetti in relazione tra loro e il mondo quindi la terra e l'uomo si separano come abbiamo detto in questo modo fino a questo momento la terra e l'uomo sono tutt'uno fondamentalmente e invece poi si separeranno. l'evento massimo di separazione che l'uomo vive in questo momento è l'intervento della morte che comincia dato che non è più parte della vita divina questo evento della morte si ha solo però successivamente e con i figli i discendenti di Adam e Deva e questi sono Caino e Abele da un lato quindi possiamo dire che Lucifero tenta prima Eva quindi tenta prima la parte più evoluta dell'epoca lemurica quindi l'astrale l'astralità proprio per la sua affinità con la natura di Eva la natura astrale dall'altro secondo che viene tentato è l'io dell'uomo quindi la natura Adam quindi abbiamo un primo una prima distinzione quella che è la parte animica che è legata alla luna Eva e la parte solare spirituale che è legata al sole e quindi Adam ovviamente questi sono contemporaneamente narrati come delle diciamo delle singole individualità Adam ed Eva ma sono anche delle entità e dei corpi dell'essere umano il principio dell'io e il corpo astrale dall'altro lato invece abbiamo Caino e Abele Caino e Abele in realtà non sono uguali non sono alla pari così come abbiamo visto che Eva per esempio nasce da una costora di Adamo quindi viene detto questo nella generazione significa che fondamentalmente è l'io che organizza gli altri corpi dall'alto quindi lo dobbiamo intendere in questo senso non nel senso come intenderemo oggi diciamo della differenza tra maschio e femmina tanto più piuttosto invece nella differenza dei corpi dell'astrale e dell'io quindi gli Eloi fondamentalmente dirigono fino a questo momento tutta l'evoluzione umana dall'altro lato noi abbiamo Caino e Abele nei Vangeli viene appunto sono continui riferimenti al fatto che Eva da un lato e Adamo dall'altro nella loro azione devono essere redenti e questo sarà poi la missione del Cristo nell'ambito di diversi scritti apocrifi viene narrata una diversa storia di Caino ed Abele Caino è il primo genito ed è figlio degli Elohim quindi la gerarchia solare e della madre terra Eva e quindi ha una generazione che deriva dall'influsso solare dall'influsso iperboreo dal fuoco del sole Caino ha dunque un impulso del fuoco solare dall'altro lato invece abbiamo Abele che è effettivamente discendente di Adamo ed Eva attraverso l'azione di uno degli Eloi l'Eloa lunare Geova Caino è dunque fondamentalmente legato al fuoco al culto solare del fuoco mentre Abele è legato alla luna all'acqua lunare alla riproduzione che avviene sessualmente attraverso l'elemento acqueo quindi sono due polarità anche queste una polarità più solare che è Caino e una polarità più lunare che è Abele anche nel loro culto nel loro modo di vita sono completamente diversi Caino è un agricoltore e quindi attraverso le forze solari trasforma l'elemento minerale in un elemento vegetale che sorge dal basso verso l'alto e si verticalizza come abbiamo visto appunto nella polarità alto-basso dell'era Iperborea d'altro lato invece abbiamo Abele che riproduce l'uguale è un allevatore quindi fondamentalmente riproduce l'elemento animale Caino lavora sull'eterico sulla polarità fisico-eterica invece Abele lavora sulla polarità astrale essenzialmente quindi questa distinzione genera e vuole portare a dire che l'uomo aveva due tipi di culti un culto solare di Caino e un culto lunare di Abele quanto viene narrato dell'omicidio del primo omicidio che avviene nella storia dell'umanità che è quello di Abele da parte di Caino sta ad indicare un momento dell'evoluzione terrestre in cui entrano delle altre forze nell'evoluzione queste sono il karma di Lucifero cioè Lucifero avendo inserito l'elemento dell'egoismo dell'evoluzione permette questo è l'ingresso di un altro elemento che è il materialismo e l'essere del materialismo è Arimane Arimane dunque così come Lucifero lavora sulla polarità Eva D'Amo quindi astrale io quindi quella superiore quindi quella che ha una tendenza a slegarsi dal tutto quello che è l'evoluzione terrestre ha invece potere su quella che è la polarità inferiore quella fisico-eterica la polarità fisico-eterica è qualche cosa il polo più basso quello più legato alla terra è quello su cui Arimane ha potere dal punto di vista dell'evoluzione iperboriaca che avevo visto che si genera per la prima volta questa dopo polarità appunto possiamo identificare Lucifero e Arimane già c'è un primordio e qui questo primordio di polarità viene portato ad un estremo prima con l'ingresso dell'evoluzione luciferica e poi con l'ingresso dell'evoluzione Arimanica l'episodio dell'uccisione di Abele da parte di Caino è il momento in cui il sangue dell'uomo tocca la madre terra per la prima volta quindi tocca Eva per la prima volta da un certo punto di vista quindi l'anima del mondo il sangue dell'uomo che è il veicolo del Dio si lega alla sfera terrestre per la prima volta e legandosi alla sfera terrestre gli permette permette all'uomo di legare il suo ego alla terra e di conseguenza a quello di cui Ariman è il Signore cioè la materia che riempie fondamentalmente la struttura spirituale stessa della terra quindi di conseguenza se da un lato abbiamo Caino e all'altro abbiamo Abele uno il cui culto è solare e uno il cui culto è lunare quindi un'ulteriore polarità Ariman è fondamentalmente agisce sull'eterico e lo rende cristallizzato lo cristallizza entro il fisico e quindi fondamentalmente fa sì che Dio discendendo eccessivamente nella sfera terrestre venga lì annichilito venga lì legato e reso inerte così come dall'altro lato invece Lucifero tendeva a renderlo apparentemente onnipotente slegandolo dalla sfera terrestre e isolandolo però al contempo dalla vita divina facendolo credere come se fosse già un Dio che però non è ancora perché non ne ha le forze per esserlo davvero in alto ma solo in potenza l'episodio diciamo se da un lato l'episodio della cacciata è a rimane ed il karma stesso è un dono di una delle gerarchie degli Elohim cioè del Cristo il karma è un principio equilibratore per tutto quello che è avvenuto dall'ingresso dell'evoluzione luciferica in poi il karma permette di equilibrare quelli che sono i due opposti permette di equilibrare gli squilibri estremi a cui l'uomo tende passando da un estremo luciferico più egoistico ad un estremo invece più materialistico arimanico nel momento in cui noi arriviamo all'evoluzione atlantidea quindi a circa la metà dell'evoluzione atlantidea alcuni atlantidei cosiddetti turani che sono una quarta sotto razza o sotto era atlantidea conquistano per loro quelle che erano delle forze eteriche se da un lato nell'evoluzione lemurica l'io prende contatto il primo contatto con l'astrale è solo nell'evoluzione atlantidea che l'io prende primo contatto con l'eterico quindi in conseguenza scendendo profondamente nella costituzione dell'uomo prende contatto con queste forze vegetali i lemuriani avevano una capacità con la volontà di modificare quello che era la terra l'ambiente terrestre quindi attraverso l'uso delle forze di volontà gli atlantidei avevano la capacità di modificare l'ambiente terrestre attraverso le forze di vita queste due modalità portate all'estremo quindi l'egoismo da un lato il materialismo dall'altro sono anche la causa della fine di queste due ere delle due stesse ere abbiamo da un lato la fine dell'era lemurica del fuoco quindi la catastrofe lemurica che porta tutta la lemuria a essere distrutta in enorme eruzioni vulcaniche dato le smodate brame di alcuni di questi esseri lemurici che erano stati completamente posseduti dagli spiriti luciferici e dall'altro quello che nella genesi viene descritto come il dilupio universale alla fine dell'era atlantidea in cui alcuni diciamo i discendenti di questi maghi neri turani che utilizzano il materialismo per possedere per loro delle forze vitali e delle terre cominciano vere e proprie guerre tra civiltà questa questa degenerazione della civiltà umana conduce al diluvio universale all'evento del diluvio universale in cui vengono dilavati tutti i peccati dell'umanità così viene descritto da fondamentalmente da quello che è il la potenza la la brama della potenza materialistica che era arrivata al massimo in alcune di queste popolazioni atlantidee quello che avviene dunque che abbiamo visto è qualcosa che va dall'unità quindi dall'unità dello spirito verso una maggiore complessità e separazione distinzione una molteplicità vedremo appunto che da un punto di vista abbiamo visto questa dualità del culto un culto più solare di Caino e un culto più lunare di Abele condurrà poi nell'Atlantide a quelli che sono i cosiddetti sette oracoli planetari atlantidei e come questi si relazionino all'uomo che andava man mano assumendo la sua forma umana attuale vi ringrazio per aver visto questo primo video e vi aspetto nel prossimo in cui continuiamo con l'evoluzione del culto dell'uomo e del rapporto con gli ostacolatori vi ringrazio